Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabrizio Esposito, ho 57 anni e vengo da Semini. Io da sempre ho avuto dei problemi ai denti, sin da piccolo. Dopo tanto tempo ho deciso, sentendo le pubblicità, di venire al lavoro. Ho girato tanti dentisti e all'età di 14 anni ho avuto anche una protesi mobile. Poi è stata sostituita da una protesi fissa, che è durata quasi 20 anni. Però ho sempre avuto dei problemi perché queste protesi ovviamente hanno un tempo limitato. Fino a che non avevo dolore, non avevo problemi, per me andava bene. Poi lo scorso anno ho cominciato ad avere problemi alla schiena, problemi alla testa, problemi soprattutto alle arcate e alla masticazione. Per cui ho deciso di dare un taglio e riprendere il tutto. Dopo un'analisi del mio problema si è pensato ad un intervento sia dell'arcata superiore che dell'arcata inferiore con un intervento che viene chiamato denti fissi in 24 ore. Effettivamente alle 24 ore io sono andato via con i denti fissi. Allora qui alla Boero intanto ho trovato uno staff decisamente professionale. Mi è piaciuto tutto e come ho detto prima molto professionali. Si sono sempre proposti nel caso in cui avessi avuto qualche problema. Per fortuna vengo solo per i controlli. I benefici che ho avuto dopo l'intervento sono intanto, ho ritrovato me stesso, quindi con un bel sorriso, con il rapporto con le persone, con soprattutto la masticazione perché non riuscivo più ad assaporare quello che mangiavo. E soprattutto evidentemente è quello, sono andati via tutti i dolori alla schiena. Non ho avuto nessun tipo di dolore. Ho sempre avuto una persona a fianco che nel caso in cui avessi avuto qualche problema era lì presente. Non ho avuto nessun tipo di dolore, nessun tipo di fastidio. Non ho sentito solo rumore. Ho scelto voi perché ho visto le varie pubblicità che girano un po' dappertutto. Ho chiesto in giro un po' chi l'aveva fatto, chi non l'aveva fatto. Il risultato è sempre stato positivo. Per cui ho deciso di venire e chiedere un pochino come doveva procedere. Chiaramente ringrazio lo staff, il dottore che ha eseguito l'intervento, che è stato fantastico. Tutto lo staff perché come ho detto prima sono bravi, professionali. Avendo sin da piccolo girato tanti studi dentistici, se devo essere sincero non ho mai trovato uno staff così. È tutto.